La tempesta si sta venendo a sfidare e noi uccideremo il tempestato, perché non ci sono piccoli oppure il tempestato. eccoci 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 stiamo dicendo eeeh qualcuno deve dare un messaggio dicendo dicendo ma con la voce di sinistra Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. non riesco capire e verlo dai che sia fuori che sia fuori che sia fuori eccolo qui dai è difficile dai 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 ok ok si non ce l'ho stiamo qua mi sto circondando le trappole a fuoco raga così faccio proprio vittare la realetta lo brucia lui 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 è la il il paese le la po la la Allora, 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 allora. Allora, 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 allora.